buonasera capitano ultimo benvenuto a telemanno ma non te lo dico è vero che sta d'aggendo la caccia lo doppiatore marchigiano ma non c'è verso deve caldo lo capisci da per te chissà perché mi son cappucciato non è che mi son cappucciato cuci perché caglio la doscia o staco a verniciare il cancello se qui lui mi riconosce non lo becco manco per questo gusto va dicendo i neri che le gomme mezze staciotta e ne più delle termiche sulla neve ma non si è visto mai dopo quelli gommisti chi ci parla tanto dov'è da che parte lui ecco domani è il compleanno suo lì 17 di novembre che uomo è uno che è nato nei mesi dei morti il giorno degli sfigati va solo che è fermato un uomo cucino non voglio dicere nessuno le cazzate più di quelle che gli aveva dicendo quindi a corti discorsi capitano il doppiatore marchigiano non fa credere a gente che il diavolo è morto di freddo ecco e per di più domani è pure il compleanno suo sì sì preghessi dio che non lo capisco perché prima gli ho buttato io le rendi et poi che vuole auguri Grazie a tutti.